Il piano sanitario regionale che ridisegna la rete ospedaliera abruzzese accende lo scontro politico all'Aquila. L'opposizione di centrodestra urla lo scippo da parte della costa visto che nel piano è previsto un solo ospedale di secondo livello ovvero al top e con tutte le specialistiche quello tra Pescare e Chieti. A discapito dei nosocomi di L'Aquila e Teramo che rischiano il declassamento con l'inevitabile contrazione di ricoveri e di specialità di livello. Ma si registra anche il forte attrito questa volta dentro il Partito Democratico tra il sindaco Massimo Cialente e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Cialente è convinto infatti che non tutto è perduto e ripropone la necessità di istituire un ospedale di secondo livello federato anche tra l'Aquila e Teramo annunciando un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Adesso noi a lungo abbiamo detto che Chieti Pescara si possono unire come ospedali riuniti per la vicinanza e abbiamo detto si può fare anche tra l'Aquila e Teramo che Teramo e l'Aquila hanno ormai storicamente una neurochirurgia di valore vedete che ormai Galzio dovunque va Pia Premi in tutto il mondo e la cardiochirurgia di Teramo che va rinforzata però è una grande tezione si può fare questa cosa? Sì o no? Dicono ma il ministero non lo vuole fare e questo lo vediamo. Possiamo andare col sindaco di Teramo ad esempio a fare questo ragionamento del ministero se il ministero dice no facciamo ragione io ieri ho risentito Maurizio Brucchi e se si possa fare si fa una scelta di questo tipo altrimenti si trova un'altra soluzione ma adesso con calma ma ci si siede intorno al tavolo se si pensa di lasciare fare ai tecnici queste scelte è sbagliato io lo dico perché come esponente politico anziano da rottamare però di come si fa la politica Pietrucci però replica che i numeri sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e per fare un ospedale di secondo livello occorrono 75.000 accessi appropriati al pronto soccorso l'Aquila ne ha poco più di 45.000 e si chiede Pietrucci con tono polemico come mai ora Cialente cerca il confronto diretto con il ministro mettendo in discussione mesi di lavoro della giunta regionale condiviso tra gli altri con le organizzazioni sindacali gli operatori, i comitati distretti, le sindaci, le associazioni di cui peraltro il sindaco dell'Aquila è sempre stato a conoscenza e quindi